Bentornati all'appuntamento col meteo di Puglia Presse. Una forte perturbazione atlantica ha attraversato il sud, il lato tirrenico nelle ultime ore ha portato forti temporali e piogge persistenti. Nel corso di questo lunedì avremo un graduale miglioramento momentaneo in quanto un'altra perturbazione molto più intensa arriverà tra martedì e mercoledì ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti in modo più approfondito. Per quanto riguarda questo lunedì in Puglia una giornata complessivamente molto più stabile, ancora un po' di nubi sul Salento, sul Gargano però non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi, a più qualche brevissimo piovasco ma davvero di poco conto più soleggiato sui settori centrali, le morge e il subappendino da 1. Le temperature in netto calo, le massime non oltre i 16 gradi, minime tra i 9 e gli 11 gradi. Il vento ruoterà dai quadranti nord-occidentali quindi torna il maestrale con raffiche moderate. Mari mossi o molto mossi sul basso adriatico, poco mossi o mossi su quello ionico. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento.